Ascoltavo su Fahrenheit Radio 3 una intervista con alcuni rappresentanti dell'editoria, in particolare dell'AIE e degli editori indipendenti, su quello che sono i problemi del mercato librario in Italia. Il punto di partenza era molto legato al problema della scarsa cultura in Italia. Si diceva che la gente non legge e soprattutto preoccupa molto che non capisce quello che legge, come diceva De Mauro, parlando dell'analfabetismo di ritorno. Allora, i punti di partenza sono questa crisi della lettura è un'emergenza nazionale. In Italia calano i lettori, calano drammaticamente in Italia che ha gli ultimi posti della classifica internazionale per quello che riguarda la capacità di comprendere un testo scritto, analfabetismo funzionale. Insomma, ritorno a una condizione di pre-lettura. E quindi il problema del libro, o secondo me di quello che sottostà al libro, cioè del messaggio che il libro propone, del contenuto del libro, non del libro carta, del libro strumento, ma del libro parole, parole dette, messaggio detto, il problema del libro diventa un'emergenza nazionale. Perché? Perché, dicevano questi rappresentanti, il sapere consente una riuscita economica, sociale, una partecipazione attiva dei cittadini alla vita democratica, alla vita democratica del paese, una vita e una partecipazione degna di cittadini che abitano un paese civile. Questo veniva detto, no? Quindi la cultura è importante di per sé stessa. Questo sembrerebbe essere il problema nazionale che si vuole affrontare. I mezzi li si vedranno, ma diciamo c'è un traguardo che parte da un problema. Il problema è scarsa cultura, scarsa capacità di leggere, scarsa capacità di comprendere il messaggio letto. Quindi bisogno di diffondere, attraverso la lettura, attraverso quello che c'è nei libri, di diffondere il più possibile la cultura, perché questo serve a fare diventare dei cittadini, dei veri cittadini che sono capaci poi di fare delle scelte consapevoli. C'è per loro il problema che in Italia negli ultimi cinque anni hanno chiuso duemila librerie e che soprattutto 13 milioni di italiani vivono in luoghi dove non ci sono librerie. Quindi in teoria in questi luoghi i cittadini non possono accedere ai libri o, specifichiamo meglio, a quello che i libri contengono, rappresentano. Perché al libro ormai si può accedere in più modi, cioè si può accedere sia al libro cartazio, ma si può accedere anche all'ebook, al libro digitale, che può arrivare anche dove non c'è la libreria. E si può accedere all'audiolibro, che può arrivare anche dove non c'è una libreria. Ora, ormai bisogna tener conto anche che lo strumento libro non è più uno strumento fatto solo della carta, ma è uno strumento che ormai si è, anche questo, adeguandosi ai tempi, si è modernizzato, è diventato un qualcosa di più volatile, è diventato audiolibro, è diventato ebook. Insomma, nell'epoca dell'informatica è diventato un file. Come risolvono gli editori questo problema? Perché lo impostano in maniera, diciamo, come avete sentito, e come vi metterò il link in modo che lo sentiate direttamente da loro, lo impostano come assumendosi un grave problema culturale, dal quale, o per il quale, richiedono una risposta politica. Sono stati chiamati in commissione, nella Camera, insomma, per trovare degli strumenti anche legislativi. Lo risolvono soprattutto in termini di mercato, perché per loro è importante il mercato librario. Provvedimenti che fondamentalmente risolvano economicamente questa situazione, cioè provvedimenti che facciano in modo che più libri, più libri cartacei, quindi che ci siano librerie che si aprano in luoghi dove attualmente non ci sono. Diciamo un sostegno anche da parte degli editori a quelli che vogliono aprire nuove librerie. Insomma, una forma di partecipazione, di prestiti a tasso zero, di partecipazione anche degli editori alla conduzione della libreria, una partecipazione molto modesta, del 5%, mi pare, propongono. Poi propongono, per esempio, iniziative per regalare libri alle biblioteche scolastiche. Pare siano stati regalati un milione di libri alle biblioteche scolastiche. C'è da chiedere se vengono veramente usati. Alle zone terremotate. Chiedono un impegno a livello scolastico, perché è importante partire nella scuola a fare amare la lettura. Chiedono che il governo si faccia carico di mantenere il sostegno alla domanda, dando dei buoni, per esempio, di 500 euro agli insegnanti per acquisti di libri. Un sostegno fiscale alle librerie che aprono, biblioteche scolastiche, centri per il libro. Non parlano molto, almeno in questa intervista, di cosa succede invece delle librerie pubbliche, delle librerie comunali, che anche queste, secondo me, stanno andando un po' in crisi. Nel senso che, almeno nella mia zona, molte librerie, che sono anche molto periferiche, distribuite abbastanza in maniera capillare nel territorio, però, sono state depotenziate di personale. Dove c'erano due, è diventato uno. E quindi anche l'attività di queste librerie sta diventando, per forza di cose, per limiti proprio anche di tempo, sta diventando meno importante. Le librerie aprono di meno, restano chiuse per più tempo, riescono a fare meno iniziative, anche di tipo culturale. La mia impressione è che ci sia una certa ipocrisia in questo tipo di risposte, cioè a un problema che si pone, soprattutto come problema culturale, politico, come necessità di fare in modo che gli italiani siano più educati alla lettura, quindi più partecipi, più colti, più consapevoli. La risposta qual è? È una risposta di mercato. Vendiamo più libri. Dateci più punti vendita, perché l'altra poi proposta che fanno gli editori è quella di abolire lo sconto. Insomma, che ci sia un prezzo unico per tutti i libri, perché dicono le grandi catene poi sono in grado di fare degli sconti perché hanno in qualche modo monopolizzato tutta la filiera della produzione e della distribuzione e quindi riescono a fare degli sconti del 15% che poi tagliano fuori invece i piccoli librai. Abolire anche gli sconti. Quindi, secondo me, impostazione culturale. C'è bisogno di leggere di più, c'è bisogno di essere più consapevoli della lettura. Eh, che bello leggere! Com'è importante! Ma la risposta che danno poi gli editori è una risposta di mercato. Vogliamo essere messi in condizione di vendere di più, cioè che i cittadini comprino più libri. Allora, su questa cosa qua c'è una certa ipocrisia, secondo me, perché tanto non tiene conto di tutte le possibilità nuove che si potrebbero aprire con internet. Ma anche si chiude poi anche a molte cose, condizioni che si trascinano e che sono, secondo me, abbastanza giuste. Vediamo anche come sarebbe possibile fare, secondo me. Uno, a quei 13 milioni di italiani che non hanno una libreria sul territorio, sarebbe possibile offrire la possibilità di arrivare al libro sia in forma digitale sia in forma di libreria biblioteca comunale pubblica sia in forma diciamo di audiolibro. Per esempio, ci sono canali come il mio, non solo il mio, che potrebbero dare la possibilità di godere di una lettura e quindi di una conoscenza del libro e quindi anche poi di una scelta d'acquisto eventualmente arrivando lì dove le librerie magari non hanno interesse ad aprire perché fallirebbero. Ma cosa si fa di questi strumenti, di questi canali? Li si minaccia, si vorrebbe farli chiudere, si proibisce di pubblicare, di leggere, libri il cui autore non sia morto da almeno 70 anni. Ma poi rimane aperto anche il problema della traduzione sul quale anche lì non si sa bene come comportarsi. Quindi anche da questo punto di vista regole incerte. Cos'altro sarebbe possibile fare se effettivamente interessasse la cultura degli italiani, farli uscire da questa immaginazione, da questa cosa qua? Ammesso che canali come il mio e come tanti altri simili al mio che ci sono che non si limitano soltanto a recensire dei libri e a presentarli ma che vorrebbero leggerli e fare di questi libri delle letture integrali e vorrebbero soprattutto leggere dei libri che siano dei classici sia dei classici storici della letteratura ma anche dei classici moderni, dei classici il cui autore non sia vissuto solo nell'Ottocento insomma perché c'è bisogno anche di contemporaneità, c'è bisogno anche di assimilare una cultura che sia moderna, che sia a livello dei tempi gli audiolibri aiutano ad arrivare a libri e come lo dite anche voi insomma aiutano ad arrivare a libri ai quali non ci sarebbe arrivati un tempo libri che hanno uno spessore culturale citiamo ad esempio Dostoevsky molti mi dicono che non avrebbero comprato non avrebbero letto Dostoevsky se non l'avessero prima sentito e avessero capito che invece è un autore che si può leggere che è arrivabile benissimo ma cosa fanno gli editori appunto colpiscono questi canali non vogliono cosa si potrebbe fare invece se effettivamente interessasse la cultura e non il mercato uno regole un po' più chiare per quello che riguarda il diritto d'autore più moderne non si capisce perché per esempio il diritto d'autore o il copyright per quello che riguarda l'industria farmaceutica duri un certo numero di anni ma abbastanza breve credo sia dieci anni il copyright sul farmaco dopodiché il farmaco può essere prodotto anche da altri e diventare un farmaco generico non si capisce perché e quindi ridurre il tempo in cui il copyright è mantenuto dall'editore che lo ha stampato perché in quel tempo ha avuto il tempo l'occasione di fare i suoi guadagni e soprattutto poi per molti libri come leggevo in un libro che è stato fatto da un esperto su questi problemi insomma i libri in genere durano un anno poi vengono resi cioè quelli che non hanno fatto niente durante il primo anno di vita spesso rientrano e se non trovano modo di vivere una seconda vita vengono messi nel dimenticatoio allora non si capisce perché per questi libri o per molti libri di questo tipo non sia possibile per chi di noi vuole leggerli e volesse e volesse anche metterli nel mercato non sia possibile avere la possibilità di prenderli leggerli e pagare un contributo cioè se tu vendi l'audiolibro una parte del ricavato di questo audiolibro va all'editore o va a chi l'ha scritto all'autore insomma non so come sono gli accordi tra editore ed autore e invece no invece il monopolio del libro per un'infinità di anni oltre 70 dopo la morte dell'autore rimane all'editore sempre lasciando a parte che secondo me non è ancora chiaro il problema della traduzione allora anche questo potrebbe avere una soluzione semplice se effettivamente si tiene alla cultura e non al mercato i libri che vengono letti e che vengono messi nel mercato mettiamo postati come audiolibri in vendita una parte di questo prezzo va a chi l'ha scritto insomma ci sono delle royalties che si pagano allo scrittore e all'editore attualmente invece no non è possibile accedere a questo libro perché l'esclusiva del libro ce l'ha soltanto l'editore e quale può decidere lui se pubblicarlo se fanno lezzare se fanno un audiolibro o così via ma non è possibile né comprare né accedere a questi diritti è un monopolio ed è abbastanza una cosa inarrivabile anche perché ormai come dicevano gli intervistati stessi insomma no si è creata si è appunto creata una concentrazione proprietaria molto forte in Italia per cui alla fine si arriva sempre agli stessi grossi insomma allora se effettivamente si tenesse alla cultura e non soltanto in maniera ipocrita come mi sembra di percepire in questa intervista che vi propongo alcune cose sarebbe possibile farle e soprattutto non si minazzerebbe cioè non si manderebbe la lettera dall'avvocato per dire tu leggi dei libri gratuitamente e quindi fai un'operazione che insomma nel tuo piccolo una goccia d'acqua nell'oceano per carità ma che nel tuo piccolo è un'operazione culturale a noi non ci va bene perché ci frega il mercato allora non dite che quello che vi interessa è la cultura degli italiani che siano più intelligenti più formati dite che vi interessa vendere no e dite che le vostre proposte sono alla fine delle proposte di tipo mercantile volete che lo Stato spenda dei soldi per far comprare libri agli insegnanti alle biblioteche scolastiche e così via ma insomma che ci sia una spesa pubblica per far comprare libri perché voi possiate vendere libri i libri che potrebbero essere letti e arrivare gratuitamente anche a chi non se lo può permettere perché poi c'è anche tutta la fascia della gente che non se lo può permettere il libro e che potrebbe averlo gratuitamente tramite canali come questo che fanno letture e ne stanno venendo fuori tanti no ne potrebbero venire fuori anche tanti anche con maggiore qualità se l'accesso è libero alle condizioni che ho detto insomma se sono se offrono gratuitamente un prodotto è gratis ed è giusto che la cultura sia gratuita se invece poi lo fanno pagare perché lo mettono in vendita eccetera eccetera voi vi tenete la vostra percentuale su quello che è eventualmente il gettito di questa lettura di questo audiolibro anzi voi con le vostre motivazioni però denunciate anche lo sconto insomma quindi in qualche modo coloro che non si possono permettere il libro ancora meno se lo possono permettere perché non se lo trovano scontato sempre il libro nuovo poi evidentemente su quello che è il giro del libro dell'usato di queste cose qua è un po' difficile intervenire insomma non se ne viene fuori dal business e d'altronde è così offrire qualcosa in maniera gratuita è il peggior danno che si possa fare a un sistema capitalistico volenti o nolenti insomma questo è comunque il sistema che vede in Italia e secondo me non è un sistema che è veramente motivato a produrre cultura la cultura fa sì anche che gli individui siano anche dotati di capacità critica quindi siano anche dotati il più possibile di possibilità di scelta non di bersi tutto quello che gli viene passato e quindi il dubbio è veramente si vuole fare dei cittadini più colti più consapevoli veramente le premesse che stanno alla base che sono tirate fuori da chi ha da chi è stato intervistato sono effettivamente la la volontà degli intervistati o la volontà degli intervistati mascherata di belle parole di bei propositi invece non si concretizza in altri fatti in altre richieste ai politici oppure anche in fatti concreti insomma quelli di censurare canali come questo quando propongono delle letture integrali gratuite che quindi possono arrivare a tutti e possono servire poi per far comprare i libri ma solo come seconda intenzione perché intanto queste letture sono valutate questi libri devono piacere per poi essere comprati piacere o non piacere quindi si può capire qual è il libro che piace che non piace magari si riesce ad avere anche una capacità critica nei confronti delle proposte stesse dell'editoria e del mercato e quindi si può anche capire che tanti libri sarebbe meglio non comprarli e che invece altri vanno comprati a cui non si sarebbe pensato vanno comprati perché dopo averli sentiti leggere si ha anche voglia di avere il libro poi da poter consultare da poter avere sotto mano a me capita ed è capitato anche a molti di voi che hanno commentato un altro video su questo canale allora signori sempre un po' di ipocrisia cioè no? nelle grandi nei grandi propositi bisogna distinguere tra la cultura e il mercato la cultura non equivale non segue le leggi del mercato la cultura è un'altra cosa e si può fare con altri mezzi che non semplicemente con con la quantità di soldi che ci si mettono valorizzando anche gli individui le capacità individuali la voglia che hanno le persone di mettersi in gioco si può fare in tanti modi la cultura non sempre la cultura coincide con il mercato a volte il mercato può anche aiutare la cultura così come l'investimento in sanità non equivale a salute le due cose sono distinte ma di queste cose come l'investimento nella scuola non equivale automaticamente a formazione e anche lì a cultura ma di queste cose magari si potrà parlare non si potrà discuterne in un altro momento grazie